a centrocampo con tutto il Napoli dietro la linea della palla Zedorf, grandissima giocata di Zedorf che è in una forma risplendente ecco Nocerino che mette in mezzo gol! 1-0 per noi l'abbiamo fatto! Alberto cosa abbiamo fatto? Alberto cosa abbiamo fatto? colpo di testa di Alberto acqua a Quilani! Cosa abbiamo fatto Alberto? 1-0 per noi Dio mio cosa abbiamo fatto? Stiamo zitti stiamo belli zitti 1-0 per noi 1-0 per noi 1-0 per noi all'incaccio dei pali 1-0 per noi 1-0 per noi colpo di testa e gol cosa abbiamo fatto? Cassano che bella palla grandissima azione Zedorf Cassano-Aquilani non abbiamo ancora fatto niente stiamo zitti dai ragazzi dai ragazzi vediamo il Napoli che è pronto a ripartire Lavezzi ho molta paura colpo di testa grande occasione gol pareggia Cavani subito subito il pareggio di Cavani immediato Napoli è saltato più in alto di noi ha indirizzato la palla su Cavani che ha pareggiato immediatamente va bene come niente fosse lo sapevamo che palla dentro per Pato vediamo Pato 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 prova a partire fallo Hiller gli ha tolto palla riparte Gargano attenzione ragazzi vi prego Gargano se ne va ho molta paura ecco ho molta paura ho molta paura ho molta paura tiro gol Cavani abbiamo preso un contropiede terrificante contropiede terrificante abbiamo preso un gol bruttissimo abbiamo preso un gol bruttissimo attenzione Amsic avviati grandissimo questa è un'azione del Napoli sulla quale noi siamo rimasti sul colpo attenzione Cavani la larga Turbillon Napoli Lavezzi Nesta Cavani gol 3 a 1 stiamo crollando stiamo crollando Napoli ha una marcia in più in questa partita in questo momento il Napoli ha una marcia in più che c'è un'azione del Napoli che c'è un'azione del Napoli